Il club Saracino con questa manifestazione che noi tanti anni fa abbiamo chiamato per la prima volta la notturna perché terminerà a notte fonda, è una manifestazione che prevede innanzitutto una prova di regolarità che poi permetterà di tirare le somme per quello che è il nostro campionato sociale. Sì, qui abbiamo stamani una bella rappresentanza di macchine, macchine che fanno sempre cultura perché aver conservato questo patrimonio che inevitabilmente dovrà essere lasciato a chi verrà dopo di noi è una testimonianza di quello che è l'eccellenza italiana. Quando si parla di eccellenza italiana, io che non sono più giovane vorrei ricordare che per esempio qui siamo ospiti dell'azienda La Nuova Verta ed io che abito in Casentino mi ricordo che dalla provincia d'Arezzo abbiamo esportato in tutta Italia la tecnologia delle prime cabine di verniciatura che se non vorrei commettere degli errori poi qualcuno eventualmente mi correggerà dopo aver visto iniziò con la costruzione delle prime cabine di montaggio tra Subbiana e Capolona, esattamente dove adesso si trova a Marino Famercato un'azienda che si chiamava Fam che io mi ricordo tra l'altro essere stata di un nostro socio Antichetti in società con Fabrizi Metalmeccanica e da lì partirono le prime gabine di verniciatura per tutta Italia. Gironzolando per l'Italia, io per certificare le macchine, oggi mi capita di vedere dei prodotti di alta tecnologia della Nuova Verta e tra l'altro la cosa simpatica è che sono dentro degli ambienti costruiti in Casentino perché anche i primi capannoni prefabbricati sono nati in provincia d'Arezzo quindi gli aretini possono vantarsi di questo. Il club Saracino è una bellissima realtà, è sempre vivo fa manifestazioni continue su tutto il territorio ma soprattutto la segreteria del club può dare un servizio a soci per defiscalizzare le macchine e fare tutte le pratiche alle ventennali perché ogni macchina ha il compimento dei vent'anni, non dall'immatricolazione ma da quando la casa madre l'ha prodotta dalla produzione ha diritto ad una decurtazione della tassa sulla proprietà del 50% e ad una polizza assicurativa agevolata chi vuole beneficiare alle macchine i veicoli con queste caratteristiche può venire presso la sede del nostro club ci trova e la segreteria si metterà a disposizione per espletare tutte queste informazioni ringraziamo la nuova verta, se ho commesso degli errori sulla storia di quella che era No, 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 hai fatto giusto, è nuova verta Nuova verta, mi scuso quindi c'è una prova qui di regolarità se vuoi dire due parole a te sulla tua azienda A noi fa piacere, io faccio le veci del nostro presidente, dottor Lanciano che purtroppo non c'è e vi ringraziamo perché siete venuti presso la nostra azienda spero che ritornate anche un'altra volta Prova di regolarità e poi giro delle vallate Prova di regolarità e poi giro delle vallate con altre prove intercalate durante la giornata Prova di regolarità e poi giro delle vallate